Buongiorno a tutti ragazzi, comuni sono lo staff di www.letsplayfifo.it, link pagina Facebook e il nostro sito in descrizione Oggi siamo qua con la player review, no, scusate, solita forza dell'abitudine Siamo qua con un nuovo video, un video come al solito, nonché nuovo perché è come al solito Perché è come proviamo gli inform, nonché uno squad builder messo su, quasi al volo, per provare questo grande decceglia inform Di cui la player review uscirà domani e per fare la prima partita commentata Questo video serve per due cose, uno anticipare la player review di Paulino decceglia domani Due per provare com'è il tiro di bamba E tre, sono caduto proprio in basso E quattro per dirvi che Andre ultimamente non sta caricando video perché è andato a farsi una bella vacanza E quindi appena torna ricomincerà con la sua carriera con il Southampton Nonché non la sua, ma la vostra carriera perché siete voi a decidere passo per passo Lui sostanzialmente gioca e voi decidete Dai, iniziamo la prima partita con gli Argentoni e vediamo come va Contro un milanista Real Chiro Chirio Bella, bella, bella Paulino subito palla 1-2 con Zaza Zaza nel mezzo Al volo, Zaza, tiro, tiro Zaza ancora, Zaza ancora Zaza ancora rigore Zaza ancora rigore Zaza ancora rigore E ancora rigore per Zaza E ancora rigore per Zaza E Zaza ancora rigore E Zaza ancora rigore Grande call Sei sempre il migliore E va, Zaza va E va, Zaza va E va, Zaza va E allora Palla per Tevez Che viene fermato da Bamba No, Gargano non ci arriva Uh, fallaccio rosso Questo è rosso diretto Per De Maio Questo è rosso diretto Probabile Rosso diretto E ovviamente già abbiamo una difesa a 3 E in più dopo facciamo ste cazzate qua Scusate, avevo voglia di parlare quadrato Bamba, cattiva In due in difesa, secondo voi, può andare bene? Mamma, che strano Non avrei mai detto che avresti fatto un passaggio del genere Vero? Grande, Nico Lopez Zaza, tiro Mamma mia, Zaza Grandissimi No, beh, ragazzi Siamo fissati sta partita qua Con i legni Tipo questi Buchi tipo questi Mamma che culo Vai, Nico Vai, Nico Vai, Nico Vai, 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 vai La, la, la La ridà Farnerud Che prova la conclusione No, allora prova la conclusione Che gol di Farnerud Grande Farnerud La coppia dei pelati Vai, Farnerud Allungati la palla, Nico No, quasi No, Farnerud C'eri quasi Grandi raga Grande Farnelud Buona raga, buon primo tempo Vai Farnelud, sei l'eroe di giornata Tira grande Nico Grandi raga Questa qui la vedo male Grande dalla dietro Adesso spazza su alta Grande Farnelud Eroe di giornata, gran tiro di Nico Sì Nico va Nico va, Nico va, Nico va, Nico va Nico va Mette in mezzo per assist Grande Zaza Grande Simo Grande Simo Grande festeggia Festeggia che meriti Festeggia, grande Nico E Farnelud che arriva Allora c'è Paolino Paolino che finta il tiro rientra e tira Mamma cosa rischia Paolino Paolino Nooo Cosa Cosa non ha parato Ma noi comunque diamo spettacolo con Zaza Ne salta due Mamma vai 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 Ne salta un altro Mamma che pirla Va Zaza Va Zaza Va Zaza Tiro 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 Allora la metti in mezzo D'Armian per il gol di testa di Zaza Grande Gol di testa di Zaza Vai Allora Nico Lopez Prova il gol d'antologia E la piazza Ma perché non di destro Avevi fatto Cioè entrava Era gol d'antologia Tipo Uuu Non ci sta invece Vai E allora Nico Lopez No Nico No Nico No Nico No Nico E allora ecco finito il match Dove gli Argentoni Hanno battuto gli Oroni Beh Oroni non è proprio un gran nome Va bene dai insomma avete capito E beh Mi sono accorto adesso Che ci hanno espulso De Maio Perché mi ero dimenticato In ogni caso Tutto questo video serve per cosa Per Cosa numero uno Chiedervi Se ogni tanto saltasse fuori Un altro tipo di video Così Della serie mini squad builder Al volo E poi Commentata la prima partita Che faccio con queste squadra Diciamo in live Cosa ne pensate Domani in ogni caso Esce la player review Di De Ceglie Quanto forte è Nico Lopez Mamma Simone Zaza Farnelrut L'uomo del match Ricordatevi che Con ogni tiro di bamba È quasi sempre gol Comunque a parte questa stronzata finale Lasciate un mi piace Un commento E diteci cosa ne pensate Di questo tipo di video Bye bye